Buongiorno, 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 buongiorno. C'è che è importante, la roba più importante della vita è che si vuole bene. No vingus di essi connessus, riconnessus, accettas, volus ben e desideras. E quando ci succede, deve qualcuno che non è sul ben, che non ci dà la libertà di non preoccuparsi poi delle facciate di offrire dal di fuori, non ci dà il passaporto per rientrare dentro di noi e riconnessi anche noi e scuviarci un altro tocco, biel, buon e positivo, dentro di noi, di poter regalare a lui. Poi bene, se a noi non succede così, non potrebbero sapere, e ci riuscire, di voler bene a chi altri, perché ora succede come che non succede a noi. Buona giornata e buona vita.